Ti senti, Roberto, che se esci ora qui non rimetti piede. Non accetto stronzate da te! Papà! Papà! È finita! È finita! Questa corte delibera di concedere la completa custodia alla signora Isla. Io vorrei che tornassi in amici. Io devo fare un annuncio per una governante. Oh, governante? Sono ansiosa di conoscerla. Oh, ma che gentile, anch'io tanto. A presto. Au revoir. Si va in scena. Potete farvi donna? Oddio, che canto qui! Aaaaaah! È finita!